Dopo l'esecuzione di una serie di lavori improrogabili alle cabine elettriche ma anche ad altri impianti accompagnati dalla ritineggiatura dei locali e in generale da una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possibili solo con la temporanea chiusura della struttura, Da ieri l'ospedale comprensoriale di Sansepolcro ha riaperto alle utenze con una cerimonia di inaugurazione ufficiale alla presenza del prefetto di Arezzo Salvatore Montanaro, del vescovo della diocesi Monsignor Gualtiero Bassetti, della direttrice generale dell'azienda sanitaria aretina Monica Calamai, della vicepresidente della provincia di Arezzo Mirella Ricci, del presidente della camera di commercio aretina Giovanni Ctricca e dei sindaci dei sette comuni Valtiberini. Una trentina di addetti specializzati hanno realizzato un impianto di cablaggio strutturato stendendo più di 800 metri di canaletta, 16 chilometri di cavi di rete e oltre 350 metri di fibra ottica. Il presidio ospedaliero di Vallata, che ora può contare su più di 130 prese di rete, 45 nuovi computer e la predisposizione ad ogni piano di un hotspot wifi per il collegamento senza fili, con questo intervento è completamente cablato. Un intervento che ha richiesto un investimento di 130 mila euro, che suma ancora più valore con l'allacciamento del nosocomio alla nuova rete telematica ad altissima velocità dell'azienda sanitaria. I nuovi servizi vanno dalla trasmissione delle immagini diagnostiche, alla consultazione del dossier clinico, alla informatizzazione delle degenze dei laboratori e delle sale operatorie. Particolare interesse riveste l'installazione di due personal computer medicali, poste nelle sale operatorie, in grado di assistere le equip chirurgiche durante gli interventi. Quello di Sansepolcro è quindi il primo ospedale della provincia a sperimentare questa innovazione. La direttrice Calamai ha ricordato la collaborazione con gli ospedali di Arezzo-Città di Castello, che nei giorni di chiusura della struttura hanno ospitato gli assistiti. Nell'ospedale di Fernate è stato assicurato il servizio di dialesi, mentre nella sede dell'ospedale di comunità di Sansepolcro è stato allestito un punto di primo soccorso temporaneo per le erogazioni delle prestazioni di base. A questi lavori si sono aggiunti quelli realizzati dal comune di Sansepolcro, relativi alla sfaltatura del manto stradale prospicente all'ospedale, con il ridisegno degli spazi per i parcheggi e la predisposizione di altri posti per i portatori di handicap.